Giacomo Puccini è stato uno dei più importanti compositori d'opera italiani di tutti i tempi. Nato a Lucca nel 1858, Puccini ha scritto 12 opere, tutte ancora oggi rappresentate con successo in tutto il mondo. Puccini proveniva da una famiglia di musicisti, suo padre era maestro di cappella della cattedrale di Lucca e suo nonno era stato direttore del teatro locale. Puccini iniziò a studiare musica da bambino e, a 14 anni, compose la sua prima opera, Biondina e Arlecchino. Nel 1880, Puccini si trasferì a Milano per studiare al Conservatorio. Qui, fu allievo di Amilcare Ponchielli, che lo incoraggiò a scrivere opere in stile verista, un movimento musicale che si concentrava sulla rappresentazione realistica della vita quotidiana. Il debutto di Puccini a Milano fu un successo. La sua opera Manon Lascaux fu rappresentata nel 1893 e fu subito acclamata dalla critica. Seguirono altri successi, tra cui la Bohème 1896 Tosca 1900 e Madame Butterfly 1904. Puccini era un compositore molto prolifico e, negli ultimi anni della sua vita, scrisse alcune delle sue opere più famose, tra cui La Fanciulla del West 1910, La Rondine 1917 e Turando 1924. La musica di Puccini è caratterizzata da una forte melodia, da un'orchestrazione ricca e da un uso efficace del coro. Le sue opere sono spesso ambientate in luoghi esotici o storici e raccontano storie di amore. Passione e tragedia Puccini è considerato uno dei maggiori esponenti dell'opera italiana e la sua musica ha avuto un'influenza profonda sulla musica operistica del XX secolo. Le opere più famose di Puccini Le opere di Puccini sono spesso classificate in tre periodi. Primo periodo 1884-1893 Questo periodo è caratterizzato da opere in stile romantico, come Manon Lescaux e la Bohème secondo periodo 1896-1904 Questo periodo è caratterizzato da opere in stile verista, come Tosca e Madame Butterfly. Terzo periodo 1904-1924 Questo periodo è caratterizzato da opere in stile più personale, come La fanciulla dell'Ouest e Turando. Tra le opere più famose di Puccini si possono menzionare Manon Lescaux 1893, opera in quattro atti sul libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Tratta dal romanzo omonimo di Abbé Prevost La Bohème 1896, opera in quattro atti sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica Tratta dal romanzo omonimo di Henry Murger Tusca 1900, opera in tre atti sul libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa Ambientata nella Roma papale dell'Ottocento Madama Butterfly 1904, opera in tre atti sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ambientata in Giappone La fanciulla dell'Ouest 1910, opera in tre atti sul libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, ambientata in California durante la Corsa all'Oro La rondine 1917, opera in tre atti sul libretto di Giuseppe Adami e Luigi Illica, ambientata a Parigi nel XIX secolo Turando 1924, opera in tre atti sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, in Compiuta L'influenza di Puccini.La musica di Puccini ha avuto un'influenza profonda sulla musica operistica del XX secolo I suoi successori, come Richard Strauss, Igor Stravinsky e Benjamin Britten, hanno preso ispirazione dalla sua melodia, dalla sua orchestrazione e dal suo uso del coro La musica di Puccini è ancora oggi molto popolare e le sue opere sono rappresentate con successo in tutto il mondo Grazie a tutti